benvenuti sul canale di guampissimi messimi esperti da katakuri swar quest'oggi parleremo della nuova teoria su edward weevall un personaggio la cui forse ci è sconosciuta ma secondo me sarà sicuramente eccezionale spaventosa iniziamo rassumendo alcune informazioni sulla sua storia e le sue capacità essendo un membro della forza dei sette con una taglia sospesa di ben 480 milioni è certamente un pirata molto pericoloso la sua forza infatti tale da permettergli di distruggere intere città nel nuovo mondo ed annientare 16 ciurme un tempo alleate a barbabianca il tutto senza ricevere la benché minima ferita dovunque gli vada causa sempre ingenti perdite tra i civili lo stesso borsalino l'ammiraglio ha affermato che si tratta di un individuo molto potente paragonando la sua forza fisica addirittura a quella di un giovane barbabianca il proprio dal riferimento con barbabianca noi sappiamo che web all si è autoproclamato figlio di barbabianca o meglio anche la madre bachin lo definisce in questo modo dopo l'introduzione di catacoli suar continuo io ma anche di la teoria a cui lui ha partecipato da noi in una mano ma che più o meno portato avanti io per questi tratti che adesso vi vado a raccontare cari amici pirati allora per noi è molto strano anche qui bollo faccia parte della flotta dei sette visto che fino a poco tempo prima non si sapeva neanche che esistesse questo personaggio questo lo potremmo dire anche per altri personaggi tipo i marines eccetera tipo fuggitora e toroverde però comunque una cosa strana perché finora stavano assoldando mettendo nella flotta dei sette solamente personaggi e pirati conosciuti anzi potrei dire famosi no hanno a sostituire quelli precedenti di altrettanti diciamo nomea questo cosa vogliamo dire infatti reputiamo che come ha detto kizaru e perché il personaggio è estremamente forte e pericoloso anche se noi non conosciamo bene ancora il suo passato la nostra teoria però si basa su un possibile legame con vegabank quindi ci spostiamo sul laboratorio di punk hazard nel quale vediamo delle strane pavimentazioni ghiacciate se ricordate c'erano cioppere altri dentro abbiamo fatte scorrere anche qui all'interno del video sia nel manga che nell'anime e nel quale abbiamo visto comunque questa stanza piena di pavimenti ghiacciati c'erano tanti vari colpi di varie misure tra cui alcuni abbastanza grossi che erano congiati tra cui c'era proprio uno che somigliava molto a quello di weevall infatti a parte di pavimenti c'erano queste pareti enormi dove c'erano degli giganti tra cui proprio uno con le treccine identiche a weevall se ne andate a vedere è proprio identica weevall quindi noi possiamo pensare che provenisse da lì cioè era stato congelato in passato e fosse così forte a causa degli vari esperimenti sul gigantismo che faceva in passato vegabank come sappiamo che ha portato avanti esperimenti che erano stati fatti sui bambini che poi abbiamo visto portare avanti anche dal grandissimo cesar clown detto castino e questo ci può stare perché questi esperimenti modificavano anche la potenza ed altro le sue cicatrici poi che ha tutto il corpo che si vedono vistosamente anche sul petto fanno quasi pensare addirittura a uno zombie vi ricordate un po se ricordate thriller back eccetera quindi potrebbe essere anche un esperimento avvenuto fra la forma del petto e del collo da non dimenticare c'è il rapporto fra bucking e weevall bucking che dice di essere la madre dice di essere l'ex amante di barba bianca mi ricorda molto machin buo e babidi quindi a nostro parere ci sono molti presupposti anche per il ritorno dei grandi pirati rock stavano infatti oltre a cade big man potrebbe arrivare la vecchia bucking proprio con weevall che suo figlio a meno così diciamo non dimentichiamo comunque che sono alla ricerca di rufi dopo aver saputo la sconfitta da flamingo infatti noi sappiamo che weevall insieme a sua madre è solo alla ricerca del tesoro di barba bianca e questo da marineford attraverso la ricerca di marco e gli altri figli di barba bianca tutti i capitani delle flotte che sembra non abbia ancora trovato perché per adesso sono solo state sconfitte le flotte alleate e lei dice di cercare i rufi perché lui fu salvato all'epoca marifato e quindi potrebbe sapere sia dove si trovano marco eccedere anche al tesoro quindi potrebbe perché non trovarsi a guano in modo tale che nel suo eventuale arrivo faccia arrivare anche marco liberandosi dalla protezione dell'isola del suo babbo diciamo che per la sua enorme potenza deve bene anche fra i capitani comandanti titanici di barba nera lo so che tutti gli altri sono molto intelligenti però lui comunque è estremamente potente quindi adrebbe assolutamente bene in questo tipo di ciurma perché no vediamo in futuro ricordatevi comunque la teoria è finita ricordatevi di passare per le nostre pagine facebook account eccetera di lasciare un bel like e dici voi cosa ne pensate pollici su alla prossima vi grazie